Mattinata di proteste a Palazzo Longano, ai lavoratori precari che hanno aderito alla manifestazione regionale e che sono giunti al loro terzo giorno di sciopero chiedendo la stabilizzazione e garanzie per il futuro, si aggiunge oggi l'agitazione degli operai della Dastia detti al servizio di igiene ambientale in città. Ieri hanno incontrato il sindaco Roberto Materi e attendono adesso garanzie per il futuro. Hanno sin cui percepito solo il 30% dello stipendio di febbraio e lunedì prossimo maturerà lo stipendio di marzo. Oggi rimarranno riuniti in assemblea mattina e pomeriggio in attesa di notizia in prospettiva. Non si può andare avanti così. Tutti i mesi la ditta dice noi se non prendiamo soldi dal comune non vi possiamo pagare. Il comune dice che non ha risorse per pagarci. Quindi noi non sappiamo arrivato a questo punto chi è che deve risolvere questo problema. Noi siamo dei semplici lavoratori. La mattina ci alziamo e veniamo a lavorare e facciamo il nostro dovere. E se il paese è pulito, diciamo che è pulito il merito nostro. Però non veniamo con risposte per quello che noi facciamo. Ora non abbiamo la competenza per sapere chi o quando ci deve pagare. Quindi aspettiamo che qualcuno ci venga a dire guardi c'è questa certezza o non c'è questa certezza. Noi questa certezza fino adesso ce l'ha data nessuno. Perché il sindaco stesso ieri ci ha detto che aveva fatto un pensamento di 100 mila euro, ha chiamato l'azienda e l'azienda non ha saputo rispondere se ci dava il saldo del mese di febbraio oppure se ci dava un altro acconto. Quindi a momento non abbiamo nessuna certezza su cosa andiamo a prendere del mese di febbraio.